Buongiorno, buongiorno a tutti. In questo video voglio presentarvi attraverso alcune slide ciò di cui parlo nell'articolo e quindi di una lezione interdisciplinare che vede musica, arte e tecnologia in un unico progetto. Un progetto esempio, ovviamente, che può essere replicato sia nella scuola primaria che nella scuola dell'infanzia oppure, come dico nell'articolo, nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia in un progetto ponte, in un progetto curricolare di istituto. Questo progetto si potrebbe, ad esempio, chiamare la sinfonia delle emozioni col mechi mechi. E' ovviamente un titolo esemplificativo. Ognuno può e può procedere come vuole mettendo il titolo che ritiene più opportuno. E' un progetto di robotica educativa, o meglio con la robotica educativa, con il coding e con questo robottino molto particolare che è un po' fuori dal comune, no? Dallo schema comune, ad esempio, dei Lego oppure della Pina, B-Bot o della Blue Bot, di Doc che hanno funzioni simili. E quindi è proprio diverso il sistema. Funziona diversamente. Ecco, ve lo presento. Si chiama il mechi mechi, mechi mechi, eccolo qui, e all'interno della scatola troviamo una schedina dei connettori, dei cavetti, chiamati cosiddetti alligatori, perché hanno la pinzetta alla fine per poterlo collegare con qualsiasi tipo di strumento che conduca energia, degli stickers facoltativi e poi il cavo che collega questa scheda madre con il computer, che è proprio questo. Quindi il collegamento con la schedina e poi il collegamento con una presa USB al laptop, al Chromebook, al notebook, ad un computer portatile, ma non solo, anche ad un computer fisso. Sulla schedina troviamo i classici comandi che si trovano poi in tutti gli altri strumenti di robotica educativa, e quindi le frecce direzionali, questo rappresenta lo spazio, questo rappresenta il click del mouse, mentre qui ci sono una serie di entrate che si possono utilizzare in vari modi. Nel progetto che presento è molto semplice l'organizzazione dei cavetti che vanno collegati alla scheda madre del Mekimeki, e questi infatti non vengono utilizzati, viene utilizzato soltanto il primo, perché si deve collegare con la presa a terra, per capirci. L'idea è proprio quella di creare un collegamento elettrico, un circuito, che abbia un inizio e una fine, quindi si chiuda. I cavi possono essere tanti e sono acquistabili anche separatamente, proprio perché si possono utilizzare tutte le entrate che ci sono, ecco qui c'è un esempio, qui ad esempio hanno collegato proprio tutto, quindi le frecce direzionali, il cavo che rappresenta la massa a terra, si può utilizzare ad esempio il bianco o il grigio, e poi gli altri due, ma volendo si possono usare anche tutti. Giusto per dare una definizione di Wikipedia a questo strumento, il Mekimeki è un kit di robotica educativa che crea stimolo e motivazione, sì perché è molto versatile, è funzionale, molto spesso, così, giocosamente, ironicamente, viene chiamato il robottino che fa suonare le banane, qualsiasi tipo di frutta in realtà. Il Mekimeki è un invention kit per tutti, è uno strumento, è un giocattolo, e per l'invenzione elettronica, che consente agli utenti di collegare oggetti di uso quotidiano a programmi per il computer. Usando un circuito stampato, morsetti a cucodrillo e un cavo USB, il giocattolo utilizza segnali elettrici a circuito chiuso, quello che vi dicevo prima, per inviare al computer un segnale da tastiera o un clic del mouse. Questa funzione consente al Mekimeki di funzionare con qualsiasi programma o pagina web che accetta input da tastiera o da mouse. Ecco nella foto quello che dicevo prima, cioè collegando il Mekimeki con i cavetti al cibo, il cibo in generale in realtà, quindi anche alla mela, alla banana, all'arancia, eccetera, che sono conduttori di energia, toccandoli e collegandoli al Mekimeki, che poi viene collegato al notebook, si crea questo circuito chiuso per cui suonano, suonano, con delle app del Mekimeki suona, la flutta suona. Il cavo della massa a terra dovrebbe necessariamente stare in una fonte di energia, quindi si può anche tenere in mano in modo tale che c'è lo scarico a terra, ma è più semplice da fare che da spiegarlo. È uno strumento ideale per promuovere l'insegnamento di qualsiasi disciplina, si inserisce in qualunque progetto in modo dinamico e con tanta fantasia. Esiste un sito per i Mekimeki dove si impara veramente ad utilizzarlo in maniera molto 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 semplice e poi ci sono tanti video dove, sì, sul web, scrivendo semplicemente Mekimeki, si possono trovare questi video su YouTube dove si fa vedere ciò che la gente ha fatto nel mondo con questo strumento e ogni volta che si guarda è stupefacente quello che riesce a fare. Nel nostro caso, nel progetto di cui parlo, si parte con la costruzione degli emoticon perché la sinfonia delle emozioni con il Mekimeki vuole mettere in risalto proprio le emozioni dei bambini. Quindi si parte costruendo degli emoji, degli emoticon, le faccine, le cosiddette faccine con la pasta di sale, meglio la pasta di sale perché si riesce a collegare bene con il Mekimeki. Quindi semplice farina e sale e acqua e si costruiscono i nostri emoticon. Si insegna ai bambini ad utilizzare lo strumento, quindi ecco qui i vari collegamenti. In questo caso si utilizza la frutta che è la cosa più semplice e ci sono due opzioni. O si utilizza le app per il Mekimeki che sono presenti su web, scrivendo semplicemente su un motore di ricerca app per Mekimeki, oppure si utilizzano programmi come Scratch, in questo caso è stato utilizzato Scratch che ovviamente è necessario imparare ad utilizzarlo. Anche quello più semplice, anche soltanto la parte basic del programma, senza andare ulteriormente ad imparare le funzioni altamente funzionali che possiede questo strumento e quindi in Scratch si può programmare qualsiasi cosa. Quindi il suono di una nota, il verso di un animale, il verso di una frase di una persona, oppure il verso che si vuole rappresentare in quel momento. Qualsiasi cosa, un fumetto, si può programmare qualsiasi cosa, questo è il coding, utilizzando lo Scratch noi stiamo facendo coding. Quindi si parte costruendo le faccine con la pasta design, poi si usa Scratch programmando le faccine. Quindi le faccine vengono programmate su Scratch con la programmazione a blocchetti, quindi con il coding, si decide cosa devono fare queste faccine. Quindi ad esempio devono suonare, devono fare una nota musicale, devono fare un verso, devono dire una frase detta da un bambino. Cliccando sulla faccina, in questo caso su Scratch, la faccina fa quello che gli abbiamo consentito di fare. Se noi aggiungiamo la robotica, quindi già in questo caso abbiamo creato un percorso di coding, Se noi aggiungiamo la robotica e colleghiamo tutte queste faccine con i cavetti al Mekimeki e il Mekimeki al Scratch, in questo caso, con una limb, che è quella che sta accanto al computer, cliccando sulle faccine, sugli emoticon di pasta di sale, queste faccine fanno ciò che noi abbiamo chiesto. Nel caso in cui si voglia fare un percorso musicale, può ad esempio fare una nota, quindi cliccando si fa proprio una melodia, si costruisce una melodia. Se invece si desidera fare ad esempio il verso relativo a quella emozione di quel momento, come ad esempio il sorriso e quindi una risata, magari una risata del bambino, cliccando la Scratch dà la possibilità di far ascoltare la risata del bambino. Quindi abbiamo fatto coding, abbiamo fatto arte facendo la pasta di sale e colorando le faccine, abbiamo fatto robotica usando il Mekimeki, abbiamo fatto tecnologia facendo tutto il percorso. Ma non solo, perché volendo si può aggiungere lo stato d'animo del bambino. Quindi ogni bambino può essere chiamato dall'insegnante o dal gruppo dei compagni o degli insegnanti, può essere chiamato a cliccare la faccina che dimostra in quel momento la sua emozione, ciò che prova, e il bambino in quel momento è invitato ad esprimere ai compagni quello che prova in quel momento e il perché lo prova. Quindi veramente un progetto multifunzionale che mette in campo tante discipline, ma anche tante competenze e anche lo stato d'animo dei bambini. Volendo renderlo più musicale, quindi per fare una lezione di musica un pochino nel dettaglio, si potrebbe partire da una scala e procedere con le note musicali. Quindi le faccine che vi ho mostrato prima diventano delle note musicali e cliccando sulle faccine si costruisce proprio una melodia semplice, molto semplice, ma si costruisce una melodia. Ecco, quindi le faccine su Scratch, cliccando la faccina fa qualcosa, ma allo stesso tempo si può anche cliccare sulla faccina di pasta di sale, che è collegata con quelle della LIM, col computer, quindi con la LIM. Stessa cosa se non abbiamo il computer, ma abbiamo un monitor screen che ci permette di fare tutto sul monitor, è la stessissima cosa. Si costruisce questa melodia o si costruisce l'espressione dell'emozione di ogni bambino. Ecco perché il percorso si chiama la sinfonia delle emozioni con il Meki Meki, perché abbiamo creato una sinfonia musicale molto semplice e allo stesso tempo abbiamo creato una sinfonia di emozioni perché ognuno di loro ha la possibilità di esprimere se stesso davanti agli altri dicendo ai compagni e ai docenti quello che prova in quel momento. Nello stesso momento abbiamo costruito un percorso di coding, di tecnologia, di arte e di musica, quindi un vero progetto interdisciplinare e trasversale che può vedere la presenza di più insegnanti in un unico grande progetto che può durare un paio di settimane, in due lezioni o che può durare mesi in base a quello che si desidera fare. Trovate tutta la spiegazione del percorso nell'articolo che ho scritto per Orizzonte Scuola e vi invito a seguirmi su Facebook e su LinkedIn. Grazie a tutti e buona giornata!